E' arrivata anche la Lori, ciao Lori, ciao! Salutiamo che il nostro amico sia buono che anche il nostro... Buone, è morto vent'anni fa! Max! 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 Chi ha detto buona? Chi mi ha detto buona? Io l'ho detto buona! Grande Max! Grazie a te! Bevo! Bevo! E ringraziamo anche il nostro amico che sta facendo le riprese e spesso con noi, grazie mille! Grande Pippo, grande! Allora, bene! Benvenuti amici! Ciao! Oh madonna, madonna che sorpresa! E le onore indosso un capo di Dolce Gabbana e i pantaloni Armani! Maglietta, maglietta di Gucci! La nostra bellissima, meravigliosa, nonché Veronica! Ha un giubbotto di... Trussardi, trussardi, sì! E l'altra amica, dopo vi dirò cosa su come mutandina, come slip, se li porta! Ma ne non li porta neanche, bu! Come un progetto di Gimmie Samo Lovig! Come un progetto di Gimmie Samo Lovig! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.